Poi è chiaro che noi siamo venuti qua per cercare di fare la nostra partita e cercare di vincerla. Poi è chiaro che la partita è andata come è andata, io devo fare i complimenti al Frosinone perché ha meritato di vincere. L'unica mia recriminazione è sull'espulsione che mi è sembrata un po' frettata perché mi sembra che Molo sia scivolata rivedendola. E' chiaro che poi, ripeto, il Frosinone in un gran momento sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, avevamo provato a fare delle cose per mettere in difficoltà, siamo stati in partita fino al 2-0. Poi è chiaro che rientri dagli spogliatoi secondo tempo cercando di tenere comunque la partita in bilico perché un episodio puoi sempre rimediarla anche in inferiorità numerica. Abbiamo preso il 2-0 dopo 5 minuti quindi lì è diventata ancora più difficile. Si riparte analizzando gli errori, prima cosa, cercando di mettere via comunque subito questa sconfitta e preparare bene la prossima partita con la Regina. Sappiamo che da qui alla fine saranno tutte battaglie, quindi dobbiamo essere bravi a far questo, a mettere da parte, così come dopo il 3-0 in casa dovevamo essere bravi a mettere da parte la troppa euforia per una vittoria strameritata. Adesso dobbiamo essere bravi comunque a mettere da parte lo scoramento e rialzare la testa e preparare bene la prossima partita. Poi si sa che è un campionato talmente livellato e equilibrato che non c'è una squadra ultima in classifica come è stato gli altri anni o due squadre che si staccano, sono tutte lì e quindi dovremmo dare battaglia fino alla fine e questo lo sapevamo già prima e adesso ho maggior ragione.